Tanta gente sta per arrivare, salutiamo con cordialità, con la nuova sigla assai speciale, ecco il programma di artisti a volontà. Tutto senza trucchi e senza inganni, simpatia sincera ci sarà, magari combiniamo anche danni, lo stile è questo e mai mai cambierà. Con Fisarmonicando staremo in compagnia, è festa fra gli amici, tanta musica, allegria, vai Marco ed Antonella con gran semplicità, staranno insieme a voi portando la felicità. Andiamo giù in Sicilia con l'atmosfera blu, in Lazio Marche Emilia di tutto un po' di più, ai laghi Mario Monti, in piazza o sopra i ponti, con Fisarmonicando. Riccardo il Toscano, veloce o dai però, Bagnasco in Marziano, campione perché no? C'è Massimo Andreotti, con Marco Porro e i botti, la festa sta per iniziare. Grazie a tutti.